Nel centro storico di Lembile, alle spalle della chiesa madre, proponiamo in vendita tipica casa salentina, composta da ingresso soggiorno con stufa pellet, pranzo con angolo cottura e camino, piccolo scoperto retrostante, bagno con vasca idromassaggio, tutte le volte sono a stella, tutti gli ambienti sono illuminati e arieggiati e l'area solare di proprietà. Poi abbiamo un'ampia camera da letto con bagno annesso.